Recorde di contagi in provincia, 159 i positivi nelle ultime 24 ore, dei quali 35 nisseni. Si contano ancora due decessi in Marianopoli, dato il basso numero di vaccinati e l'alto numero di contagi rispetto alla popolazione, è stata messa in zona arancione dal presidente della regione. Sono 72 i positivi ad oggi nel paese del Vallone. Situazione difficile anche per Gela con 638 positivi e Delia con 99. Sono 266 positivi nel capoluogo con 8 ricoverati. 45 i ricoverati in tutto in ospedale tra degenza ordinaria e reparto di rianimazione e 1545 i positivi in provincia in totale. Dal tavolo prefettizio, insieme al vertici dell'ASP e ai sindaci, arrivano sollecitazioni e consigli, ma nessuna ordinanza dai parte dei primi cittadini per applicare misure restrittive, soprattutto per le attività natalizie che coinvolgono i bambini, purtroppo i più colpiti al momento, e veicolo di contagio. Intanto l'ASP si sta nuovamente attrezzando per il piano pandemico ospedaliero, come previsto dalla recente circolare emanata dall'assessorato regionale alla salute.